Che tu hai detto a me che il nome era Penelope e io magari l'ho detto a Calvin che l'ha detto a Tina che l'ha detto a Marti Campione del mondo Come ha detto a Calvin che l'ha detto a me che lo dico a te Vai Perché tu hai detto a me che il nome era Penelope e io magari l'ho detto a Calvin che l'ha detto a Tina che l'ha detto a Marti Che ha detto a Tina che la bimba invece si chiama come ha detto a Calvin che l'ha detto a me che lo dico a te